Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa, una storia d'amore mozzafiato, ricca di desideri, streghe e incantesimi finiti male. La lettura di questo romanzo regala momenti di svago e leggerezza, rendendolo ideale per chi desidera evadere in un mondo di magia e romanticismo. La trama del libro The X-X della scrittrice Rachel Hawkins, sotto lo pseudonimo di Erin Sterling, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Mai mescolare vodka e magia. Nove anni fa, Vivian Jones ha curato le ferite del suo cuore come qualsiasi giovane strega, vodka, musica strappalacrime, fiumi di bagnoschiuma e una maledizione lanciata all'orribile ex fidanzato. Quando R.H.Y.S. Penalov torna a Graves Glen, Georgia, Vivi si accorge subito che i guai in cui il giovane in cappa sono frutto del suo sortilegio non proprio innocuo. E in una ridda di giocattoli indemoniati, fantasmi furibondi e gatti parlanti, Vivi e R.H.Y.S. devono trovare il modo di spezzare l'incantesimo prima che sia troppo tardi. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.